Salve a tutti e bentornati a Storie di Calcio e Quiz, io sono Sava Life. Come sempre ragazzi, prima di cominciare il video, vi ricordo sempre che se volete supportare il sottoscritto è semplice. Iscrivetevi al canale, non vi costa nulla a voi, a me vi date una grossa mano, attivate la campanella in questo modo, lo ripeto due volte, vi arrivano le notifiche dell'uscita dei nuovi video, altrimenti dovete andarveli a spulciare tutti quanti. E poi, se vi va, è un'altra cosa molto importante, lasciate un like a questo video, a tutti i miei video futuri, questo in modo che YouTube mi dà una mano con l'algoritmo. Questo è quando ragazzi, semplici cose, poi non vi costano niente, semplici click a me invece, date una grossa mano e aiutate lo sviluppo di questo canale, perché YouTube i soldi mi piace. Allora ragazzi, oggi derby, lì nell'aria è il profumo del derby, ma non il derby di Milano, non il derby d'Italia, il derby toscano, il derby toscano perché oggi alle 6 c'è Empoli-Fiorentina, il derby toscanissimo, derby che ha sempre regalato sorprese, stravolgimenti all'ultimo minuto, quando la Fiorentina vinceva e poi la Dittoria è andata a perdere negli ultimi secondi. Ci sono talmente tanti aneddoti dietro a questa partita che potremmo stare qui 12 ore. Oggi si arriva a questo derby, calmosamente, chi sembrerebbe il favorito per il vittorio di questo derby è l'Empoli, perché l'Empoli comunque ci arriva in maniera spumeggiante dopo di torno a vittoria il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Torino. Un Empoli che in campionato, ha detto di tutti, sta giocando un calcio veramente spettacolare, straordinario, squadra super organizzata e chi si troverà di fronte oggi forse è la squadra che è ancora un mistero, nonostante la vittoria contro la Lazio 2-1, due rigori, tante chiacchiere su questa vittoria della Fiorentina, molti hanno parlato di rigori generosi, tanti hanno detto che c'erano, perché comunque i contatti nella rigore ci sono. Comunque una vittoria che lascia ancora molti dubbi, la Fiorentina anche contro la Lazio, ha dimostrato ancora di essere molto indietro. Una squadra che gioca male, lenta al primo tempo soprattutto, era stato veramente pessimo, una squadra lentissima, impacciatissima, giocatori imballati, lenti, non sapevano che fare, prevedibili sempre, gli stessi passaggi. Baroni l'aveva completamente già capito a come sarebbe scese in campo a partire, che tipo di gioco avrebbe fatto, infatti le ha completamente ingabbiate al primo tempo. Nel secondo tempo meglio, perché comunque quando dientrano in campo, ragazzi, calciatori di tecnica, di qualità come Gudmundsson, e allora lì il tasso, tutta la squadra ne beneficia, e si è vista un'altra Fiorentina, comunque ha messo una pezza, diciamo, Gudmundsson. Hai tanti problemi che secondo me questa squadra ha, e che palladino speriamo dopo un'ennesima settimana di allenamenti, dove abbiamo avuto due settimane belle, insomma, dove abbiamo voluto fare allenamenti, provare, insomma, situazioni in campo, c'è stato tempo, perché tra poco inizierà quella calcio di Conference League, e da lì dopo veramente la possibilità di poter preparare i calciatori, anche singolarmente, diventa veramente estremizzata. Basta vedere quello, insomma, che sta succedendo anche un po' all'Atalanta, quest'anno tanti cambiamenti, sta soffrendo in maniera netta, non è l'Atalanta scommeggiante negli anni scorsi, cioè allenarsi nel quotidiano, tutta la settimana, come può fare il Napoli di Conte, è determinante, perché comunque tu hai detto, puoi lavorare anche sicuramente sui calciatori, che ha fatto di capire come devono stare in campo, quindi fa bene avere una settimana tipo dove poter preparare le partite. Quindi oggi ci aspetta, contro l'Empoli, una partita veramente tosta, quindi io spero veramente che Palladino abbia dato una sterzata a questa stagione, perché il tempo stringe e non ci possiamo più permettere di fare questi primi tempi, perché l'altra volta ci è andata bene, abbiamo preso solo un gol, ma se vai sotto più di un gol, veramente dopo diventa anche psicologicamente molto molto difficile. Palladino oggi, bene o male, sarà la stessa di Firenze contro la Lazio, a parte l'uscita di scena di Mandragora per un piccolo rinfortunio, io non voglio nulla, non c'è un ragazzo straordinario, ma veramente Mandragora, ragazzi, non si può più vedere in gamba, abbiamo preso 40.000 di centrocampisti e facciamo giocare a Mandragora, mi sembra veramente, non lo so, quelle scelte strane che alcuni allenatori hanno, tutti allenatori hanno sempre un calciatore che si innamorano, lo mettono in campo nonostante tutti lo odino. Poi il fatto di continuare a giocare con questa difesa a tre, quando abbiamo già visto che con questi difensori che tu hai, giocare a tre è veramente una follia, e quello che mi fa ancora di più arrabbiare, sinceramente, perché anche oggi, ovviamente la formazione sarà questa, con De Gea, linea tre, con quarta, con Muzzo, c'è il balottaggio Ranieri-Biraghi, ma a questo punto è meglio mettere Ranieri che Biraghi, perché Biraghi, a parte che Biraghi, secondo me, non può più giocare in Serie A, c'è un giocatore che è lento, sta completamente sfiorando, poi metterlo anche in quella posizione, veramente è inutile, cioè farlo giocare è inutile, quindi è meglio mettere un altro difensore in quel ruolo che mettere un Biraghi che perde 400 palloni, che fa falli dove non deve fare, e quindi è meglio mettere un altro difensore. Poi a centrocampo abbiamo sugli esterni Dodò e Gossensen, speriamo che Dodò continui questo lento miglioramento, perché le sue prime uscite sono state abbastanza bruttine, dall'altra parte appunto Gossensen, sicurezza, e la linea di centrocampo, poi i due centrali in mezzo saranno Cataldi e Bove, anche qui c'è Cataldi è un altro che palladino, ormai è straverso per lui, quindi non credo che vedremo mai Richardson, Wadley in campo, e questa è una cosa che a me veramente mi dispiace, perché anche su Richardson si parla molto bene, un giocatore che ha molta velocità, è tecnico, però noi continuiamo a giocare con Cataldi, che in velocità non sa nemmeno che sia, si sa giocare bene a pallone, su Bove non posso dire niente, Bove mi piace, non è questo fenomeno veramente, però secondo me se vicino a lui mettevi uno come Richardson, o uno come Adli, mi avviso sarebbe stato tutto molto meglio, poi abbiamo il duetto formato da Colpani e Woodmunson, incredibile Woodmunson, vederlo da parte di olare è qualcosa che ti fa bene al cuore, e in attacco lui il nostro Got, Got, Can, la nostra sicurezza, la nostra roccia in attacco, questo è quando, questi sono gli undici, l'unico, a mio avviso, l'unico dubbio che avevo appunto è Ranieri e Biraghi, spero che alla fine spunti Ranieri, perché è un difensore, quindi alla fine abbiamo un difensore in più, vediamo, proviamo, ma questa difesa a tre mi lascia molto molto perplesso, dall'altra parte invece abbiamo l'Empoli, devo avvicinare a Coltodracca, perché non ci vedo più, portiere Vasquez, linea tre anche loro per Viti, Ismaili, Gol, Licenze, non so nemmeno pronunciarlo, a centrocampo Pesella, Ederson, Grassi e Giasi, Duetto Esposito e Angiorini e Colombo in attacco, se leggi questi nomi che fai fatica quasi a pronunciarli, dici ma come fa l'Empoli a giocare così bene, è perché è un allenatore che gli fa giocare bene, cioè ancora c'è gente che dice che l'allenatore non è tutto, l'allenatore è tanto, perché se ti riesce a entrare in testa, e dopo i cacciatori si dedicano a te completamente, cioè fanno quello che, cioè il tasso tecnico non l'aiuta, cioè fanno quella cosa in più, e la vise è tanto, perché una squadra come l'Empoli che si deve salvare, c'è tanta roba, perché se riescono a fare veramente il 101%, allora riescono a sofferire a tutto quello che non hanno in qualità, perché questa squadra ragazzi c'è tanta 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 corsa, tanta bella voglia di fare, ma non mi sembra di leggere nomi, che vedendo la Fiorentina dice ma, cioè una disparità incredibile, se noi leggiamo il centrocampo della Fiorentina, diciamo i due dietro le punte che sono Colpani e Gunzo, loro hanno Esposito e Angiorini, cioè raga di che stiamo a parlare, cioè Colpani e Gunzo non valgono, ma forse solo Colpani vale per tutto l'Empoli, quindi in campo c'è un tasso tecnico importante, è questo che la Fiorentina dovrà dimostrare oggi, ok l'Empoli che gioca bene, ma ok anche che la Fiorentina è più forte, ha speso un sacco di soldi, ed è giusto che questa squadra incominci un po' a dimostrare, e segnare gol su azione, è quello che vogliamo vedere, vogliamo avere un dominio del campo, vogliamo vedere idee, gioco, un modo di giocare, che ce lo porteremo dietro per tutta la stagione, troviamone uno, e andiamo avanti, perché il tempo stringe, appunto Nicolo sta per cominciare, quella cavolo di Confidence League, che ci limiterà tantissimo, poi ci sarà un'altra sosta tra i nazionali ancora, purtroppo, quindi tanti calciatori andranno fuori, quindi il tempo stringe, non c'è più tempo, a mio avviso, scusatemi, ripeto due volte, di commentare errori, basta, basta, vediamo vedere una partita subito, una Fiorentina subito, forte, che aggredisca l'avversario, fino dal primo tempo, e portare a casa questi tre punti, che ci servono veramente tantissimo, dobbiamo assumere e accorciare un po' la classifica, perché i punti bisogna annunciarli a macinare, quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere voi, come andrà alla fine questo derby, chi la spunterà, se volete segnare anche i marcatori, fatelo pure, vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok, ho aperto anche su Telegram, vi lascerò il link in descrizione, ovviamente iscrivetevi a questo canale, molto molto importante, e noi ci aggiorniamo con un prossimo video, ciao!